E' il progetto di Minibasket ad ottenere il maggior numero di voti per il bilancio partecipativo del 2021, ben 151 infatti le preferenze ottenute dal progetto appartenente all'area tematica sport, proposto dai cittadini associati, Concetto Lamalf e Ignazio Labua, insieme all'Associazione Sportiva Dilettantistica, invicta 9300. Al secondo posto, con 149 voti, il progetto Vivi San Luca 2022, sempre per l'area tematica sport della Nisse Rugby, insieme al Comitato di Quartiere San Luca. Gli altri due progetti riguardano l'area tematica cultura e, per l'esattezza, piccole note dell'APS sulle ali della musica con 144 preferenze e luoghi comuni per una cultura inclusiva e partecipata, con 63 voti, proposto da Franco Giorgio De Cristoforo, Fondazione Alessia, Istituto Euro-Mediterraneo per la formazione, ricerca, terapia e lo sviluppo delle politiche sociali. Al quinto posto, con 47 voti, l'orto sociale di lega ambiente Caltanissetta per l'area tematica cura e bellezza del centro storico. L'amministrazione si riservava inoltre di definire successivamente la destinazione di eventuali importi disponibili, nel caso in cui la somma dei costi dei progetti ammessi al finanziamento fosse inferiore ai 40.000 euro, destinati al bilancio partecipativo per l'appunto. Ed infatti, dato che la cifra non è stata raggiunta, si aggiunge anche il sesto progetto più votato, e cioè moda e tradizione, sempre appartenente all'area tematica cultura dell'Associazione Culturale Le Dianne Ricami della Nonna. È grande soddisfazione perché comunque i cittadini misseni piano piano stanno capendo l'importanza di quello che è il bilancio partecipativo. Infatti sono stati presentati 23 progetti e sono state espresse circa mille preferenze. Ci auspichiamo che questo dato ovviamente continui a salire e continui a migliorare, perché la partecipazione, insomma, e vedere realizzato un progetto proprio scelto, ideato dai cittadini, e votato dai cittadini, è una grande soddisfazione. Abbiamo insomma pubblicizzato di più, abbiamo avuto insomma la possibilità di incontrare più persone perché il Covid magari ce l'ha permesso e quindi di spiegare l'importanza di partecipare al bilancio partecipativo. Quindi adesso senza Covid con l'assessore alla partecipazione e la professoressa Natale pensiamo di incontrare tutti i comitati di quartiere, gli alunni delle scuole dai 16 anni in su, le associazioni, quindi proprio per spiegare l'importanza del bilancio partecipativo, di partecipare sia con i progetti che con le votazioni.